E bello a tutti ragazzi, sono Gilberto e sono qui oggi, tornato in un nuovo video Raga, questo qua è un video importantissimo Perché so che alcuni di voi, non tutti, ma alcuni di voi hanno bisogno di crediti E quindi oggi sono qua a portarvi il secondo contest ufficiale del mio canale In occasione del raggiungimento di 3.000 iscritti, infatti vi ringrazio anche Ragazzi, voglio solo dire semplicemente una cosa Questo è il contest successivo al primo contest che non è andato a buona fine Perché tantissima gente non aveva capito il significato Non aveva capito come sviluppare e come effettuare il contest Perché ad esempio, pochissima gente, tantissime hanno partecipato Però pochissimi hanno, tipo 5 o 6, hanno risposto adeguatamente ai requisiti che richiedevo Quindi ho deciso, visto che magari tanta gente l'ha reputato un contest difficile Anche se secondo me era molto semplice da fare L'ha reputato difficile Ho deciso di aggiungere altri 50.000 crediti e rifarlo Infatti questo contest qua sarà da 200.000 crediti Ho ridotto anche il tempo, infatti saranno solo più 2 settimane e non 3 E voi dovrete semplicemente fare due o tre cose Che sono Uno, la prima è scrivere nei commenti qua sotto Hashtag partecipo Dovete semplicemente scrivere quello Perché io estrarò a sorte tra i commenti qua Seconda cosa Andare su Instagram Perché avrò caricato, ora ora, quando vedete il video Una foto in cui dovrete assolutamente taggare tre E dico, tre vostri amici su Instagram Perché, ragazzi La cosa che magari alcuni penseranno è Scrivo partecipo, non vado a commentare la foto di Instagram Ma vinco lo stesso No, perché io Non è che so scemo Se vedo che estraggo una sorte che ha scritto partecipo Gli vado a chiedere qual è il suo account Instagram E se vedo che l'account Instagram non ha commentato il coso Non faccio mincere lui e ne estraggo un altro Io estrarò a casissimo Tra i commenti di YouTube Quindi dovrete semplicemente scrivere partecipo Hashtag partecipo su YouTube Dovrete taggare tre vostri amici sotto la foto Instagram Che ho caricato adesso E, ragazzi, cosa più importante Dovete mettere like a questo video Perché questo contest sarà attivo solo al raggiungimento di 120 likes Quindi smanettate con i like Dite anche ai vostri amici di mettere like E nulla, ragazzi Il contest finisce qua Dovete semplicemente fare questo Io vi regalo 200.000 crediti a colui che estrarò a sorte E nulla Oppure fatemi sapere se preferite che faccia un estraggo a sorte 200.000, 100.000 Però secondo me è più carino fare 200.000 a uno solo Però fatemi sapere anche nei commenti Magari vi lascio qua in alto il sondaggio Così vedo cosa fare Comunque, ragazzi, in linea di massima è così Quindi lasciate un bel like A 120 Farei il... Cosa sarà attivo Lo caricherò domani Che non so che giorno sarà Penso il... 2 marzo Non lo so Perché non so quando caricherò il video Comunque Calcolate da quel giorno lì Due settimane Io terminerò il contesto Quindi lasciate un bel like Un commentino Ci vediamo al prossimo video Ciao